Alberto Matano è ormai un conduttore affermato. Da quattro stagioni, infatti, è alla guida della vita in diretta e puntata dopo puntata edizione dopo edizione ha conquistato i telespettatori raggiungendo ascolti straordinari. Il talk di Rai 1, infatti, è visto da una media del 19,7% di share per 2 milioni e 170. 6.000 spettatori. Alberto Matano è intervenuto nella puntata di Domenica Inn e l'amica Mara Venier, nel fargli i complimenti per gli ottimi ascolti del talk di Rai 1, ha rivelato un retroscena che in pochi conoscono. È stata lei a convincere Alberto Matano ad accettare la conduzione della vita in diretta. Nel dettaglio, infatti, la Venier ha chiesto al giornalista «Ti ricordi quando tu mi hai detto «Io non voglio fare la vita in diretta? Io cosa ti ho detto?» A questo punto, Matano ha risposto «Io ero titubante sul treno Roma e Milano e tu mi hai detto «Ti prendo a calci!»» Dopo anni, Mara Venier ha rivelato un'interessante retroscena a Domenica Inn. È venuto fuori, infatti, che Alberto Matano era titubante sull'accettare o meno la conduzione della vita in diretta per la stagione 2019-2020. All'epoca Matano era un volto del Tg1 e avrebbe dovuto cimentarsi per la prima volta al timone di un programma di intrattenimento e informazione al fianco di Lorella Cuccarini. Seguì il consiglio di Mara Venier e si è rivelata la scelta. E tu sapevi della notizia?